Buongiorno a tutti e benvenuti su MeteoJeg. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Ora passiamo alla grafica previsionale per la giornata di domani, venerdì 9 aprile. Avremo tempo sereno su quasi tutta l'Italia, con un aumento delle nubi sul nord, che sarà appunto un inizio all'avanguardia della perturbazione in arrivo dalla Spagna meridionale che porterà a piogge fortissime tra sabato, domenica e lunedì. Lieve aumento delle temperature da nord a sud, valori che si riporteranno in media, minime sottomedie ancora al nord, con ancora qualche possibile gelata tardiva nelle vallate e pienure interne del centro e del nord. Mari poco mossi, localmente molto mosso il mar Adriatico e il mar Tirrenico. Per ora io concludo qua, un caro saluto da MeteoJeg. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Grazie. 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 Grazie.